9, 2, 3 sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro, crederò con loro, amerò con loro perché il mondo venga a te, o a te, conoscere il tuo nome e avere vita con te. Voi che siete luce della terra, miei amici, dispendete sempre della vera luce, perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi, Padre, consacrani per sempre, diano gloria a te. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, se sarete uniti, se sarete in pace, se sarete puri, perché voi vedrete Dio che parte, in Lui la vostra gioia, gioia piena sarà. Voi che ora siete i miei discepoli nel mondo, siete testimoni dell'amore immenso, e alle trova di quella speranza che c'è in voi, coraggio, mi guiderò per sempre, io rimango con voi. Spirito che animi la chiesa e la rinnole, non ha le potenze, ma che sia benele, con il Cristo che muore e risorge, perché il regno del Padre, si contendendo, noi abbiamo vita in Lui.